Sì, non abbiamo il piacere di conoscerlo, però ce l'hanno parlato tanto, l'abbiamo poco fa detto la figlia Chiara che si è commossa moltissimo. Una delle sculture si è dedicata a Peppe Natella, la sua memoria, diciamo, sappiamo che ha fatto molto per questa città e quindi abbiamo pensato di fare questo omaggio. La sabbia non è un materiale facile da lavorare, è un materiale naturale, ci spiega in che modo la sabbia riesce a tenere tanto tempo? Noi la compattiamo, è molto semplice, non c'è colla, non c'è niente, acqua e sabbia, niente di più. Acqua compressa, come facciamo da bambini in spiaggia, molto semplice. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.